Un operaio di 23 anni, Gabriel Aurelian, residente a Corato, ma con origini rumene, è deceduto questa mattina dopo essere stato investito sulla strada provinciale 231 nel territorio di Terlizzi e accaduto attorno alle 7.30. L'auto, una Dacia, era guidata da una 45enne di Andrea che viaggiava in direzione Bari ed è stata denunciata per omicidio stradale. La donna si è subito fermata per prestare soccorso alla vittima. Saranno i carabinieri coordinati dalla procura di Trani a chiarire però l'esatta dinamica dell'accaduto e a capire soprattutto se il giovane operaio fosse impegnato nella pulizia del bordo strada per liberarlo dall'erba o se stesse invece segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro. La salma del 23enne è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giovane operaio svolgeva la mansione di moviere presso il cantiere mobile allestito sulla sede stradale, inutili i tentativi di rianimazione da parte dell'equipe sanitaria del 118, intervenuta sul posto al lavoro anche il personale dello special dell'asla di Bari. È la quarta vittima sul lavoro in meno di due settimane in Puglia ed è unanime il cordoglio dei sindacati che chiedono però con forza una strategia completamente diversa per arginare un fenomeno che assume giorno dopo giorno proporzioni sempre più grandi, una morte che deve far riflettere e che non avremmo mai voluto apprendere, una notizia che turba la nostra serenità, vicinanza alla famiglia e alla comunità coratina, detto il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico a cui hanno fatto eco le parole del primo cittadino di Corato, Corrado De Benedittis. Morire di lavoro sulla strada a 23 anni, un dolore immenso e infinito per tutta la città. È una grande rabbia.